www.marizopoli.it Le truffe, anche in estate, in questa calda estate, non vanno in vacanza. Vi riporto qui un articolo da leggere bene, si chiama Money Mooling, Mulo di Denaro. In sintesi arrivano questi messaggi spam, queste che hanno avete anonime, da voci registrate, che sono all'ordine del giorno, che bastano solo risposta per finire poi in queste truffe online. Raggiri che passano tramite quello che abbiamo in mano, cioè lo smartphone, il tablet, il pc. Questo muro di denaro l'inganna allo scopo di trasferire denaro per più soggetti per alimentare e reciclaggio. Quindi faccili guadagni, faccili guadagni che non esistono nel mondo reale. Chi capita sotto questi ingranaggi, secondo le statistiche, sono persone under 35, sì, giovani, gente che attraversa momenti di difficoltà economica, che cadono nella rete di questi truffatori. Vi invito a leggere bene l'articolo, ricordandosi che non esistono pasti gratis. Alla prossima!